Siamo nel backstage della sfilata di Joseph Althussarra. A Joseph piaceva l'idea di qualcosa di grafico, piuttosto estremo, non aveva voglia di morbidezza. I suoi abiti sono molto strutturati e molto, diciamo, impertinenti. Benvenuti alla New York Fashion Week. Siamo alla sfilata di Joseph Althussarra. Abbiamo iniziato applicando Root Boost dalle medie lunghezze fino alle punte, sui capelli asciutti. Questo per creare una texture molto consumata. E poi sopra, fino alla sezione frontale, abbiamo usato del Thickening Gel. Abbiamo asciugato all'indietro in modo che i capelli risultino molto lisci sul viso, ma arruffati sulle punte. Il risultato è che i capelli danno l'effetto non del giorno dopo, ma della settimana dopo, il che è fantastico. I suoi abiti sono molto grafici e credo che anche lo stile dei capelli sia decisamente molto grafico. Anche se abbiamo texture e chaos, rimane un elemento di brillantezza che è molto forte. Una volta asciugati tutti i capelli, li ripartiamo dalle medie lunghezze fino alle punte, spruzziamo Sleek Me Stick e cotoniamo un po' con una spazzola morbida e poi lavoriamo la parte sopra con la piastra lisciante. In questo modo rimane lontana dai capelli. Ancora una volta andiamo a creare una finitura grafica. Il punto forte è il blocco di colore grafico che Paul applica sui capelli. Quando lo si vede, porta tutto a un livello superiore. Grazie a tutti.